Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono il vostro signor Ogio e oggi proviamo insieme la demo di Airport Renovator. Un gioco che appartiene a quel filone che ormai ha moltissimi esponenti, che è quello dei rinnovatori, restauratori, riparatori, insomma. È un genere in cui bisogna dare nuova vita a oggetti, macchinari o, come in questo caso, a un aeroporto. Si vedono anche tanti video su YouTube di oggetti riportati all'antico splendore, anche se molti di quei video sono falsi e fasulli, in cui questi oggetti sono in realtà oggetti, come dire, invecchiati ad arte, poi riportati puliti, magari anche con qualche pezzo preso da qualche gemello. Ma chiudiamo qui questa piccola parentesi, è naturalmente parentesi dettata dal mio invidia per tutti i milioni di view che hanno quei video lì, non capirò mai perché. Però, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. E arriviamo invece al nostro Airport Renovator, un genere che mi incuriosisce, mi incuriosisce, anche se non ho mai esplorato molto. Però lo proviamo, lo proviamo perché ho visto questa demo, la consigliata da Rock Paper Shotgun, uno dei siti che seguo sempre per i giochi su PC. E dunque facciamo un new game, demo che fa parte della Steam Next Fest di ottobre 2021, facciamo un new game e partiamo. Allora, il primo scenario è l'America Latina. E una grafica ci accoglie quasi migliore di quella di Flight Simulator, con il nostro aereo, siamo noi. Ecco l'aeroporto, immerso nei boschi, chiaramente la base d'appoggio di qualche banda di spacciatori di droga, coltivatori naturalmente, preparatori delle dosi da spedire nella ricca America del Nord. E noi dunque dovremmo aiutare questo cartello a riportare un'uova vita. L'aeroporto, sfuggito alle squadre anticrimine. Dunque, atterriamo, belli belli, pliff, ho temuto per un attimo per la mia virilità. E anche vediamo, allora... L'aeroporto è messo molto male, tanta erba da tagliare. Allora, trovare la porta dell'hangar è laggiù. Ed è così che comincia tutto. Guardate anche che bozzi che ha questa pista, chiaramente da ripianare. Benissimo, raccorriamo. Ah, possiamo scegliere la ascia così, perfetto. E allora, andiamo subito a usare questo attrezzo per uccidere questo lucchetto che blocca la porta. Tiè! Voilà! Apriamo la porta, ce la spalmiamo in faccia. Dobbiamo accendere la luce attraverso i fusibili. Ok, la scatola dei fusibili. Eccola lì, probabilmente sto battendo le ginocchia contro ogni spigolo impossibile e immaginabile. Allora, F, turn on. Voilà! Beh, c'è un po' di caos, ma è anche abbastanza pulito. Allora, accendiamo. Ok, il nostro protagonista si lamenta dello stato in cui versa questo luogo. Comunque, attiviamo la radio principale. Click e con il nostro walkie-talkie comunichiamo ad Amelia che siamo giunti a destinazione. Finalmente, pensavo che non avrei più sentito parlare di te. Com'è stato l'atterraggio? Spero non come l'ultima volta. Sono caduto giù come un sacco di potatoes. Presto, liberati di quelle piante sulla pista. Impediscono, vabbè, l'arrivo di casse con le provviste. E di sicuro non mi rendono facile la vita con l'atterraggio. Allora, dobbiamo tagliare un po' di alberi che sono qua fuori. Ecco, belli segnati in rosso. Il gioco non fa nulla per lasciarci così, alla merce della situazione. E dunque, selezioniamo la nostra fidatissima ascia. Che non perde il filo. Spero, iniziamo ad abbattere questi alberi. Uno, due, tre, quattro. Uh, ecco qua. 2000 dollari per quest'albero che viene anche fatto a pezzi. Raccogliamo tutto automaticamente, va bene. In effetti non è il massimo per le ali di un aeroplano avere questi tronchi d'albero vicino alla pista. Qui. Voila. Ah, posso anche fare un heavy swing? Così, poi, bim, bim, bam! E con un colpo solo! Il muscolo del nostro protagonista? Meglio di Paul Bunyan mi pare, si chiama il mitico tagliatore di alberi canadese. Ce l'hai fatta, bravo! E ora è tempo di farti arrivare la prima scatola di... È provvista, è quello lì. Cerca solo di non farti colpire in testa dalla scatola. Vediamo un po'. Ecco la scatola, vediamo se mi cade in testa. Potrebbe davvero cadermi in testa? No, è lontana. Ecco, le nostre provviste! Spero ci siano fagioli in scatola, i miei preferiti. Ok, spacchiamo tutto con la nostra ascia. Splankete. Splongs. Ah, abbiamo trovato un tagliaerba. No! Cos'è questo? Un togli... Come si chiamano? Le foglie. Un soffiafoglie. Splongs. Vediamo se possiamo prendere l'oggetto. F per raccoglierlo. Voilà! Oh, magnifico! Un soffiatore! Ok, mi dici di togliere il ghiaino che è presente qui, se non erro. Allora, selezioniamo il soffiatore. Questa qui è abbastanza pulita. Beh, non è potentissimo in effetti. E comunque, usiamolo per vedere di ripulire questo ghiaino che inizia... Eccolo qua. Via, via, via. E guadagniamo anche denari. Ah, no, praticamente aumenta il valore della pista. Non è che ce li siamo già incassati. È una previsione futura. Ok, allora ripuliamo per bene tutto. Lo schifo... Ui, guarda qua quanta roba! Ma è polvere bianca! Hmm... Forse è caduta da qualche aereo, eh? In partenza. Lavori tediosissimi. Che se facessimo nella vita vera... Ci lamenteremo invece nel videogioco. Guarda che emozioni! Che sentimento! Ok. Quanto è lunga la pista? Basta! 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 Sono neanche a metà! Allora, facciamo così, guardate. Correndo. Qualcosina la lascio indietro, ma almeno... Voilà! Guardate che pulizia! Sì, vai! Corri! Corri e soffia! Soffi e corri, voilà, diciamo un altro, sicuramente più veloce del metodo che usavo prima, dovrò fare qualche passata ulteriore, ma almeno mi sto evolvendo, mi sto evolvendo, e non è nemmeno la mia forma finale. Non mi ricordo neanche più com'è in italiano quella famosa frase di Freezer, che la vedo sempre nelle immagini con la scritta in americano, inglese, ok, ci siamo, 92%, beh, soffiamo via queste robettine qui, mini, mini, micro, anche questo, uffa, ma è tutto, vabbè, dai, non può bastare il 97%, ecco fatto, 98%, c'è anche una, c'è anche una capra, oh là, ripulita, non del tuttissimo, ma quanto è sufficiente, perfetto, ah, un altro, un altro drop, dove è l'aereo, eccolo là, ok, c'è la capra sul tetto, vediamo se riusciamo a salire in qualche modo, ma posso saltare, come hai fatto a finire la capra, 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 scusate, non potevo esimermi, allora, andiamo a prendere, vediamo il nuovo toy che ci ha proposto la nostra amelia, asciona, e facciamo un bel colpo, crackete, perfetto, ora prendiamo l'oggettino, ah, devo ancora spaccare tutto, mi sa di sì, ole, e raccogliamo il tagliaerba, finalmente, ma come faccio a far scendere la capra? Forse l'erba mi servirà per far scendere la capra, chi lo sa, lo scopriremo, lo scopriremo, allora, togliamo l'erba in fronte al terminal, qual è il terminal? Ah, questo qua, l'hangar praticamente, allora, andiamo di tosatore, e come sempre, corsa, infischiando me anche di queste rocce che sicuramente spaccherebbero qualsiasi tosatore, mai usato un tosatore in realtà, ma looks like fun! Direi che ho quasi finito, Link sarebbe orgoglioso di me, se mi vedesse, peccato che non escano rupie da questa, da quest'erba, 97%, ecco qua, gli ultimi ritocchini, ed è ripulita, perfetto, Allora, non ho ancora capito come si fa a far scendere quella pe, 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 capra, pe, 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 capra, il nuovo airdrop! Guarda che pulizia la pista, non sembra più neanche lei, Antipaticissimo il protagonista! Crack! Cos'è questa cosa? Una... No, zaino-jetta? Crash! What's this? Ok, è un pulitore, un'idropulitrice praticamente Ma non ho capito cosa devo pulire Allora, patio floor, ok, devo pulire qui la veranda Ah, beh, che schifo! C'è una quantità di sterco e polvere su sta roba che è lo schifo più totale Quindi anche la mia casetta va ripulita a dovere Oh, anche le mura! Togliamo anche la vecchia vernice Sto sfondando anche le finestre, probabilmente Puliamo anche quelle Fin dove arriva l'idropulitrice? Beh, lontana, quindi posso anche star fermo invece che girare Come un burattino Senza fili Poi è una marionetta, se non sbaglio C'è il burattino e quello con la mano dentro Brutto dirlo così Mentre la marionetta è quella con i fili Ha sceso la capra da sola Goat! Il patio, oh non è stato ripulito del tuto Il patio, tuto Tutto il patio Pulita anche la capra Ho sentito un ding Ah, la capra è scesa da sé, in realtà Bene Ho risolto una questione senza neanche essere io Come faccio a spostare sta roba? Forse è questa che mi impedisce di ripulire completamente il patio Deve esserci qualcosa di nascosto microscopicamente Ah no, 100% fatto, perfetto Ah, possiamo distruggere la trash Chiaramente, con la nostra hash Spacchiamo the trash Crash Crash, oh Ah, per fortuna non devo raccogliere Anche i detriti Ma cos'è? Una collezione di coriandoli? Che aveva il precedente proprietario di questa casa Sì, tutto insieme, vai Benissimo Sì, molto semplicificato, eh Crack, perfetto Allora, capra sta lì o ti colpisco, sai? Ti colpisco, eh Non potrai mai Non potrai mai Allora, idropulitrix E vai di nuovo Shwits, shwits Deve stare così e vedere il nostro lavoro Ah, questo mi dà un'idea Allora, ripuliamo questo muro Così E lì, gli angoletti Tutti gli angoletti belli Voilà Voilà Una casa nuova E qui lasciamo la nostra firma Oh, Jay Oh, yes Anche il sorriso Sì Puliamo Voi non avete visto nulla, naturalmente Eccoci qui Quanto vale ormai il nostro aeroporto? 100.000 dollari Queste cartelli della droga Ah, hanno il portafoglio bello ampio Ok, 74% Spero che fosse un 75% Ma no Comunque ripuliamo anche qui Con attenzione Ecco qua 96 97 Dai Adesso ripulire anche il sottotetto Così vediamo che probabilmente anche qui È rimasta sporcizia Qui sotto 99 Ecco, dai Anche lì forse 100% Magnifico Allora adesso entriamo in casa E sfondiamo tutto con la nostra ascia Dai Spacca tutto Sprank Uffa Basta un colpo Veloce No, quella TV Deve essere riparata Ecco, gli armavietti però non erano male Oh, è una pianta Possiamo raccoglierla Una pianticella Telefono Anche quello l'ho spaccato Qui tutto devo spaccare Ma gli schedari Perché No, quello straccio può tornarmi utile Questo non posso spaccarlo Sì Ok 290 D'ora abbiamo fatto tutto Un'altra cosa Un'altra cosa Ho forgot Un'altra cosa È getting dark There's a storm coming I'm dropping the last supply crate Sì La facciamo fuori stasera Ok Mi ho ripulito tutto per bene Vediamo se posso pulire anche l'interno Con la mia idropulitrix Sì In realtà sì Volendo Anche il soffitto Quella Voglio una casa bella pulita io E profumata Va bene Andiamo a vedere l'ultimo L'ultimo dono che ci ha lanciato la nostra Amelia Che sta arrivando notte Eccolo Qui vediamo se posso sfondarlo Con l'interno pulitrice No Mi sta arrivando anche una tempesta Attenzione Dobbiamo sbrigarci A prendere l'ultimo oggettino Un dono È un pigiama Per la notte O forse un cagnolino Visto che sta saltando Nella scatola Si sentirà tradita La nostra pecora Lights Allora mettiamo le lights Mettiamo una qui Possiamo mettere anche I colori Volendo Blowing 30 devo metterne giù Ecco la capra Che mi continua a seguire È già nottefonda Aiuto Come passa il tempo So se le mette automaticamente Centrate No Direi di no Deve stare il più vicino possibile Al centro Per avere una parvenza Di ordine E poi Come faccio a cambiare colore Ah così Mettiamo anche una rossa qui Che è E uno qua Che è Forse potrei fare rossa e verde Per dare No ma non è questa Ah non mi ricordo Gioco a flight simulator Non mi ricordo neanche come si illuminano bene Giustamente le piste Vabbè In maniera corretta le piste E sì che ho fatto anche qualche tutorial Sugli aeroporti Che vergogna Dai 19 Presto Presto Che mi sto bagnando tutto E non abbiamo neanche il cesso Ha detto La facciamo fuori stanotte Ma Se piove Fine Sì Ecco qua Ma dai Ti basteranno bene Ste luci No Dove sono le ultime due Voilà Wait a second Dove sono le ultime due luci Beh dai Puoi atterrare Che con queste 28 Anche se non sono 30 Insomma La pista la vedrai bene Oppure no Ah Beh le ho messe lì Vabbè Volevo metterle qua In realtà le rosse Ma non importa Ecco fatto È saltata la luce Ah possiamo anche accendere Oh Ci abbiamo la torcia Allora Quindi mi sarei potuto evitare Tutti i ginocchi Sbucciati Che mi sono fatto Sbattendole Sbattendole Contro Contro gli oggetti Qui Olè Risolto il problem Oh Tutte robe opzionali Adesso Ecco la capra Giustamente Che entra Possiamo distruggere Il resto Della Della spazzatura Allora Vabbè Frendiamo questo Sì Effettivamente Potrei stare qui A spaccare tutto Anche cose Che magari Potevano essere utili Spacco lo stesso Vabbè Comunque La demo L'abbiamo visto Quanta roba Che c'è da Da togliere E spacca pure Solo una roba Alla volta E se non sono Allineato bene Neanche la fa Mi faccio largo Nella spazzatura Questo no Non si spacca Questo Boom Meglio che faccia Attenzione Magari sono Barilotti Pieni di Materiale Esplosivo Oh Questo angolo Ripulito Bene Vabbè Cosa dire Di questo Airport Renovator Nel solco Di tanti altri Giochi simili Che abbiamo visto Se devo essere sincero Cosa ne pensate voi Cari amici Amici Dico Amici Italia Vorrei portare Più giochi Così Non so Io ho detto Mi incuriosiscono Ma non ho mai Approfondito Vabbè Basta Direi Può essere Suficiente Bello Quello che ho fatto Finora Anche questa bella Elica Dovrei distruggere Eh sì Anche a distruzione Completa Cari amici Amiche Dio Non mi stare Qua sopra Il mio letto Posso salire Mi pare di no Va bene Va bene Allora Per la quinta volta Vi dico che adesso Chiudo Che ci vediamo Presto Con un nuovo video Perché io sono Il vostro signor Ogio E quindi vi aspetto Al prossimo Appuntamento No Ho anche questo bel tavolino